Scilla passo dopo passo sta recuperando il suo ruolo strategico nella città metropolitana grazie agli investimenti dell'amministrazione comunale sul campo turistico, sul campo culturale e da oggi anche nel campo sociale. La manifestazione Scilla Plastic Free che ha coinvolto e coinvolge tanti ragazzi nelle scuole medie, nelle scuole elementari e nelle scuole nell'infanzia, grazie a un percorso condiviso con la dirigente scolastica e con il comitato di quartiere è l'esempio di come le cose si possano fare bene se si fanno insieme e noi come città metropolitana vogliamo stare accanto a Scilla per tutte quelle che sono le problematiche del territorio da risolvere ma anche per stare accanto per quelli che sono i progetti di crescita di Scilla e della Costa Viola nella piena consapevolezza che se cresce Scilla cresce tutta la città metropolitana.